Mater Ecclesie, ecco tuo figlio, ecco tua madre. Il versetto del Vangelo di Giovanni in cui Gesù sulla croce affida sua madre Maria al giovane discepolo è la guida del messaggio del Papa per la 26esima giornata mondiale del malato che si terrà domenica 11 febbraio nella festa della Madonna di Lourdes. La giornata del malato viene a richiamare alla nostra Chiesa un'attenzione che dovrebbe essere costante. Ecco, che è quella che Gesù ci ha insegnato di essere accanto alle persone più fragili. La giornata che quest'anno il Papa ci richiama a celebrare con quello slogan di ecco tuo figlio, ecco tua madre, ci porta a focalizzare quel momento difficile che è il Golgotha dove si celebra il mistero della sofferenza. Io lo chiamo mistero perché davanti alla sofferenza l'uomo intelligente non trova risposta. L'uomo di fede guarda la croce. Ecco sulla croce si celebra, posso dire, una tragedia, non c'è dubbio, ma non è una tragedia senza speranza. Ecco. E i protagonisti sono una madre e un figlio. E questo la dice lunga perché quando noi stiamo male, quando noi siamo nella prova chiamiamo la mamma. Un bambino chiama la mamma. E siccome davanti a Dio siamo tutti bambini, la mamma ce l'abbiamo sempre presente. Anche negli anni di ospedale le persone che soffrivano, l'ultima parola sulla bocca era che la mamma mi accolga. La Madonna è una persona alla quale si rivolgono anche i non credenti. Nel momento del dolore un Ave Maria, un pensiero a questa mamma che accoglie tutti, è per tutti. Sì, Maria è accettata da tutti perché alla fine Maria è questa madre che è presente nell'ora della prova, che sta a fare la differenza. Ecco, nell'ora della prova non è presente in tutta la vita di Gesù, ma nel momento della sofferenza la mamma è presente. Ecco, Maria diventa icona per noi preti, per la Chiesa di Verona, per essere anche noi capaci di delicatezza, di attenzione. Ecco, io credo, anzi ne approfitto per invitare anche i sacerdoti della nostra diocesi a non disattendere, a non chiudere gli occhi mai davanti alle persone che soffrono. Don Flavio Bertoldi, per sette anni cappellano all'ospedale di Borgo Roma, come attuale assistente dell'Unitalsi, ricorda il valore per i malati del pellegrinaggio all'URD, che quest'anno sarà maggiormente accessibile anche economicamente. A me piacerebbe che anche i parroci ci segnalassero se ci sono ammalati che hanno questo desiderio e la cui difficoltà potrebbe essere economica. Segnalatelo che poi la provvidenza ha le sue strade, ma sarebbe un peccato che l'ammalato non potesse arrivare alla grotta di Massapiello. Da quest'anno non ci sarà solo il treno, che rimane comunque il vettore prezioso e anche più di tradizione della nostra diocesi, ma ci saranno, come negli ultimi anni, gli aerei. E da quest'anno anche la corriera, il pullman, un pullman che sarà attrezzato, con delle barelle adatte agli ammalati, comodo, e anche un pullman, un secondo pullman, di pellegrini. Poi, se sarà necessario, ne faremo degli altri. Grazie a tutti.